Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori smartphone economici. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 dei migliori smartphone economici. Quindi cominciamo con il Xiaomi Redmi 9C che rappresenta lo smartphone innovativo creato per migliorare la vita dei suoi utenti. Con un concentrato di tecnologie rivoluzionarie l'uso di questo Xiaomi offre un piacere audiovisivo. Con il suo sistema operativo Android 10.0 Xiaomi offre applicazioni aggiornate e di rapido avvio. Questa velocità influisce positivamente sulle prestazioni dello smartphone. Con il suo display HD Plus da 6,53 pollici Xiaomi offre immagini e video ad alta definizione. Dotata di tecnologia TUV Rainland, questo schermo Xiaomi Redmi 9C protegge gli occhi dalla luce blu. La sua capacità interna di 64 GB permette un maggiore memorizzazione di audio e video così come di applicazioni e giochi. Dotato di un triplo sistema intelligente da 13 MP ciascuno offre un 42 MP combinato per catturare immagini chiare e nitide. Poi troviamo ancora uno smartphone di Xiaomi con il Redmi Note 10 Pro. Questo telefono di Xiaomi offre un bel design visivo ed è disponibile solo in colore grigio. Il suo display da 6,6 pollici è abbastanza grande per una buona presa e la qualità delle immagini è garantita da un effetto still resolution da 108 MP. Xiaomi Redmi Note 10 Pro gira su sistema operativo Android 11 ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio. È un telefono con una buona durata della batteria e un impressionante 6 GB di RAM. È molto fluido e funziona ad alta velocità mentre permette l'uso simultaneo di più applicazioni. L'uscita audio è fornita da un jack ma la caratteristica speciale di questo telefono è la sua fotocamera certificata ISO e la memoria interna di 128 GB. E per finire abbiamo quindi questo telefono di OnePlus il Nord 2 5G. Uno smartphone di colore grey sierra il telefono OnePlus ha un design semplice. Tuttavia le sue caratteristiche sono impressionanti soprattutto con la sua tripla fotocamera AI ultra wide angle da 50 MP e c'è anche un sistema di stabilizzazione ottica. Inoltre la batteria del telefono ha una buona autonomia e si carica molto rapidamente in 30 minuti. Con 8 GB di RAM e un processore Mediatek Dimensity questo telefono offre un'esperienza utente, veloce e fluida soprattutto per il gioco. E' anche compatibile con il 5G e gira sul sistema operativo Oxygen OS. E il suo display AMOLED da 6 pollici offre un bellissimo effetto visivo. Ecco grazie per aver seguito questa top 3 spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti con le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.